Sì, anch'io ringraziando come Mirella per l'occasione, io sono molto contento che su questo tema, quello più in generale dell'innovazione, ci sia la possibilità di una visione largamente condivisa nel Parlamento, perché credo che su questi temi, insomma, mi pare una cosa ovvia, se non ci muoviamo con logica da sistema paese, quindi con progetti che guardino oltre i cambi di maggioranza al governo, noi rischiamo di essere totalmente ininfluenti in una realtà internazionale già difficile. Io non credo che vi sia il problema della frattura a cui tu accenni, mi ha colpito, mi pare ieri, il risultato di questa mappatura che è stata fatta sul 5G su 38 paesi europei, secondo diversi criteri. E l'Italia è a un posto apprezzabile, nei primi posti, cioè quarta, solo per quello che riguarda infrastrutture e tecnologia, grazie all'asta, aver già assegnato le frequenze, alla sperimentazione, al numero di progetti pilota. Io spero, perché apprezzo, anche per i progetti connessi che si stanno portando avanti, ne parlavamo prima, penso all'Italia del Wi-Fi, penso al catastro dell'infrastruttura, lì siamo quarti. Su tutte le altre graduatorie siamo oltre il ventesimo posto. Capitale umano e formazione, il contesto, le scelte di innovazione, regolatorio e normativo, dove siamo in una posizione, mi pare, trentacinquesimi. E io penso che sul 5G ora ci sia questo tema da affrontare. Perché il 5G l'ho imparato anche io, da Antonio Sassano, da Decina, da tutti coloro che sono riusciti a insegnarlo anche a me e lo insegnano da anni. È un cambio di paradigma, non è semplicemente un cambio della velocità di trasmissione, è un cambio di paradigma. Cosa significa? Per ora noi parlavamo di net neutrality ragionando sulla regolazione del traffico su una rete e e quindi dicendo che i servizi specializzati, mi pare questa fosse più o meno la definizione, se i servizi specializzati, anzi discutendo se i servizi specializzati dovessero, potessero avere una sorta di privilegio sul traffico normale, sul servizio normale. Ma noi parlavamo di una rete. Con il 5G realizzeremo una sorta di rete di reti. I servizi, se non vogliamo chiamarli specializzati, saranno tutti sensibili però. O vogliamo immaginare che mettiamo una graduatoria tra l'automotive piuttosto che la chirurgia a distanza. Come si regola questo nuovo universo che si crea? Io penso che da questo punto di vista sia difficile elaborare le risposte perché nessuno ha riferimenti precedenti, ma che questo per il legislatore e per chi ha il compito regolatorio, questo sia la vera sfida. E come si assicura la parità di accesso? In altri termini, chi stabilisce che un servizio merita la creazione o la dedicazione di una nuova rete? Chi ha il controllo, diciamo, l'orchestrazione a me sembra sempre una cosa un po' troppo sublime, ma degli algoritmi di concertazione? Che ruolo ha il pubblico in tutto questo? Perché quando parliamo di intelligenza artificiale, non parliamo solo di immissione, perché l'intelligenza artificiale evidentemente opera sulla base di dati immessi, non è che ha la scienza infusa. E chi decide quali dati immettere e in che misura gli uni e gli altri? E come ci regoliamo con quelli che non sono dati misurabili o econometrici, ma che hanno a che fare con il sentimento popolare, con le convinzioni etiche, con alcuni principi? Chi ha il governo di questo processo? E la blockchain? So di andare contro uno dei miei precettori che è il professor Decina, ma mi perdonerà. Io sono allarmato, non voglio dire che ho certezze, ma sono allarmato e preoccupato e scarsamente convinto dell'idea che possano esistere più blockchain private. Io penso che il meccanismo della blockchain debba essere a controllo pubblico. So di sembrare un personaggio del Vecchio Testamento, in fondo lo sono, però non mi convince questa idea che dietro un principio condivisibile, la libertà di iniziativa, il ruolo del mercato, il privato. In realtà, se noi la traduciamo nei fatti e guardiamo, proiettiamo lo sguardo tra qualche anno, il rischio è che una serie di blockchain private, non lo dico male ma ci capiamo, che partono inizialmente con le migliori start-up italiane, con i talenti italiani che l'Italia ha, in qualche anno finiscano tutte ingoiate, da una parte da Huawei, da una parte da Google e ne abbiamo due sole controllate dall'estero. Questa è la realtà, se vogliamo dircela. E come si interviene rispetto alla relazione con l'Europa? Io vedo che su questo Francia e Germania, forse ammaestrate da anni di errori, stanno provando a fare un ragionamento, un passo comune a due. E questo per noi è pericoloso perché se noi non ci inseriamo, quel meccanismo, quel condominio franco tedesco sarà l'interlocutore per Stati Uniti prima e per Cina poi. E noi recupereremo male, ma noi abbiamo bisogno che a livello europeo ci sia un'iniziativa che affronta il bere, che è troppo timido rispetto alla realtà attuale. Non si può attendere per affrontare, dicevi giustamente, aziende, operatori hanno bisogno di certezze. Certo che è difficile, certo non ci sono, parliamo di scenari su cui non c'è, alla Camera spesso funziona il precedente, no? Quando in una discussione un gruppo chiede se una cosa si può fare o non si può fare, il Presidente va a vedere se ci sono i precedenti che valgono più della Costituzione. Qui il precedente non c'è. Per questo finisco, io mi aspetterei quasi dalla maggioranza, dal governo, per questo il ruolo di Mirella anche nella discussione di stamattina è importante, oltre al suo ruolo istituzionale per la rappresentatività politica che lei ha, mi aspetterei una sorta di nuovo digital act. Cioè l'orizzonte su cui si è mosso il governo precedente, traguardava alcuni presupposti, la rete in fibra, ricorderai tutte le discussioni, il rame, la fibra, tutti gli articoli su tutti i maggiori quotidiani italiani gli editorialisti che dicevano il governo si intromette, il rame va benissimo, il doppino del rame è il futuro, te lo ricordi no? I giornaloni. La rete in fibra, il catasto, Italia wifi, la sperimentazione. Ma oggi ci sono nuovi orizzonti, anche nell'occasione in cui il Ministro è venuto in commissione, ha tratteggiato una linea che va molto oltre, giustamente, non è che si può rimanere in contemplazione, i temi della blockchain, dell'intelligenza artificiale, del ruolo del pubblico rispetto al regolatorio di queste fasi. Allora forse provare con un nuovo atto che sia occasione in Parlamento per un confronto su temi difficili ma alla fine il Parlamento un'indicazione deve darla e magari immaginare possa essere una linea condivisa come io mi auguro perché di questo c'è bisogno. Io penso che possa tracciare, provare a tracciare su questi temi di cui si discute qualche orizzonte e dare un input per affrontare anche questi aspetti. Grazie.